Ragazzi siamo tornati su League of Legends e come avete visto dal titolo siamo con ospiti veramente molto molto speciali E' uscito un video veramente molto particolare quindi vi consiglio di vederlo fino alla fine Vi lascio il video, buona visione Ma non arriva la richiesta, non arriva Ok ora si arriva No no eh, lo sa lo sa Ti tolgo le tonsille porca m***a Tutta sua nonna? Ti tolgo le tonsille Deve essere un'affermazione d'affetto comunque Devo venire io con te? Si, così dico Si Proprio in the dig night Siamo alzati alle 4 del pomeriggio Come pretendi di dormire alle 2? Tu io no Secondo me si è fatto Se mettete lo streaming di qualcuno noioso No no ho dormito Cazzo io guardo i video di surri ma... Ah Yasuo contro Yasuo Ahia vedremo chi è il più forte Boom 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 Lo scorso Yasuo in Mirror l'ho distrutto Shen signore della m***a Esatto E questo è lo spirito giusto Leona testa in discarica Leona testa in discarica Ma Come un diamante 1 Dai sto scherzando Yasuo ma... No ma... No vabbè Progetto Luciano Master? Sì, sono Master Secondo me è un... Yasuo Double Master Double Master Doppio Sì però Klaus compratano una trama che è imbarazzante Ad averci i soldi volentieri Sono youtuber Cioè ecco fa miliardi e miliardi almeno Io sono Zodiac Baby Sti cazzi non ci rimetti? Ah io posso fare tipo la intro Qualcosa del genere Ma ignorano brutalmente Esatto è incredibile Dai ma io lo lascio Questo lo lascio Eh sì t'ammazzo Dai Dai ci metterò ore Ma che cazzo sei surri Dai lavora Sto registrando comunque Ogni due secondi mi stambiamo No Dai no Sentite questo rumore raga Senti questo rumore Io e Klaus lo conosciamo bene Ah anche Klaus lo conosce? No Klaus Dai Eh Cioè ti piace Beh avete una cosa in comune allora Pietro Vai Sasha No ma tu vai Dai che c***o Dai Dai che devo tagliare S*****o S*****o Andri manchi tu Andri manchi tu Aspetta ci penso io per farlo E tagliare Andri Andri li penso io S*****o 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 Ti metterò ora A tagliare tutte queste bestemmie Fai l'intro Fai l'intro dai Fai l'intro No stronzi S*****o 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 Dai Io non gioco più con voi S*****o Dai 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 Adesso il 6 minuti è ancora fallito Beh ragazzi sono Eko e siamo tornati nel nuovo video Finalmente tornati su League of Legends Ciao Enko 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 Esatto mi raccomando In midlane con Dio C***o C***o Un taglietto ci deve stare Un taglietto sono 40 taglietti che devo fare per adesso In midlane poi con Yasuo Sasha Ciao Farei vedere quanto danno gli sto facendo io a questo In giungla Klaus con il suo main tra l'altro Uè Sì sì Il suo main da adesso Da adesso Inizialmente lo usavo tantissimo Zack No perché non devi dire che ho comprato subito Ero sempre da lo che nessuno lo usava Adesso specialmente lo uso molto E poi vabbè Mi hai chiesto prima se faceva il knockback No no si chiamava Knockneck La chiamava Knockneck E poi in botland La botland più forte d'Italia Raga come sono giocarsi in botland Capito che un ami quando c'è un ami sono best support team Però c***o C***o Modesta Superutto modesta C'è se vedo il first block bot dalla parte loro Anche esattamente di linea Hai visto quanto li ho lasciato Dovete usare l'EAL Eh questo qua è abbastanza un po' più forte di me Andre come si sta a giocare in top lane Sì tranquillo Gitto gitto Ma freddo Ragazzi ma c'ha 400 di bing Ma c'è uno di prisma Attaccalo 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 Se scappa così quanto rido Se scappa così Ok buono Oh Te la volevo lasciare La prendo E io manco l'azzo S'ho preso tutto questo Sì ma che razza di ucculo questo però eh Sabri colpa tua Cioè non sai far danno C***o vuoi? Possiamo bestemmiare mentre ne seguiamo i nemici? Nooo E mentre non li seguiamo? Nooo Andre Vieni dietro vieni Vieni dietro o vieni Pietro? Eh Ah ok allora ho capito anch'io Vieni dietro Ops Ciao Eh merda Ma qua Quanto è facile Quanto è facile Quanto è facile Quanto è facile Cioè non lo so Mi fa morire Sabri mi ha fatto morire Sabri Dall'arrizzate? Eh un po' tutti Chi a se avessi avuto l'ignite Mai mi sono L'ignite L'ignite Non lo sarei fatto Oh Yasuo 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 Scusatemi eh che scomparo Ravissima Ravissima Tranquillo Tranquillo Io sono bestemmi EU World EU Nord America e Pakistan Sì è Sud Africa D'accordo È morto o è scappato? È scappato È scappato È morto È morto di paura Arriva mid Arriva mid Mi hanno fatto flusciare quel coiore Arriva mid No è la passiva però No è la passiva Giusto Ti sbrighi sbrighino Prima vuoi dire Sì già non ti sei aperto Un secondo Oh cavolo No 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 Scherzavo 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 Che cazzo vuole quello che ti risponde Brava di te Stai aprire il lavoro Stai gestendo un parcheggio Senti non è colpa mia Cioè Nel senso È un lavoro difficile Tanto tengo sotto controllo tutto Intanto Trundle sta già Solo 50 minion Sta Trundle Che schifo Ma cazzo Minchia ma Shen Ma mi arrasa come un matto Shen Sei fatto? Che veramente È una roba indecente 50 minion solo Sto facendo le torri Vabbè uno si tippa Miss È arrivato Shen Uh è arrivato Ora non perdi Ehm Cosa Che va indietro Che ha una paura sto tizio Cosa? E vedi i danni che fa Sono Cosa? Perché? Tutti quei danni dove li ha tirati fuori? Cosa? Fortino la sabri gamer Mi? Forte Vai Klaus Vai 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 Eh no Non sa che No no è bestiale Quel coso Vabbè date la partita di Echo Ah sì tanto Anche se siamo a 0-11 Siamo a Gipropoletti Durante la partita di Echo È una brutta persona Comunque Klaus Sì Sabri 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 Leona 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 Ok Non so può ridere Klaus Guarda quanto ha rito Sabri E non ho niente Curami Chi è questo? Mica Ma dove? In che mondo? In che vita? Ma perché Come faccia ad essere lì quel coso? Ma perché? Cosa è successo? Sei buono Non è che l'assist Mamma mia Mamma mia Questo testo Eeeh Fatti qualcosa che sto Oh buono Mamma mia Mamma mia Hai visto? Guarda lo spadaccino Mica Chef Tony 2 Porca puttana Chef Ramsay pure Immagino Adesso voglio che fai un meme Visto che sei bravo Su Photoshop Ecom E devi photoshopare Ti sto trollando Non ridere Che poi continuano Cioè Loro che fanno tipo La fusione di Dragon Ball Ma metti la faccia di Chef Ramsey E quella Rotti coglioni Mi dica Buonasera Dice che è fuori servizio Prego Eeeh Di cazzo Ma non è vero Non dire pandonie Fuori stronza Dive 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 Ma su chi? Sulle ora? No sulla torre C'è Shen C'è Shen Oh mio Dio Questo Klaus Ragazzi non capisco perché siete rimasti lì Una curetta Vaffanculo Vabbè mi pensavo perché aveva preso il Drake Ah no l'hanno preso l'uno Sì No no il Drake Loro Mangi broccoletti con le carotine Che tu lo vuoi Tu lo sarai Una di noi Winks La domanda non è la mia Facciamoci chichi Ciucciate me il cassetto Ma c***o Dai Tutto mio Aia No 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 L'ultimo colpo L'ultimo colpo Madonna mia che danni Che fa questo coso Buono dai buono Fermi Dai ragazzi Io però ho lasciato Che armi Prego Saffa Io l'ho preso Guardate guardate questi No vabbè Ragazzi ho capito Ti ho provato Ti ho provato Vai a girare Windwall Windwall È vero che è stronzo Oh no Già non so Se mi dici muro del vento È già tanto che lo fremo Invelocemente Mi dice poi windwall Già è vero Ho dovuto un attimo Sincronizzare L'italiano inglese Scusa È partito 5 secondi dopo Il windwall Quando eri morto Tranquillo Io l'ho lanciato Ho lanciato un pokemon Vivo wingo Cioè so che cosa significa Andre Però In latino vuol dire Uomo forte virile Magari c'è anche i reb Bravo Bravino Bravo Devo farmi la trilla Sì Ce l'ho viste due stellate così Come se non fosse nulla Guarda io ho giocato Quattrocento di ping Ho schiacciato Uno due tre Tanto ragazzi Qui siamo per il late Più è nostro il game Tranquilli Ho lasciato l'abista Ma perché l'abista Ma a che ti è servito Che non serve proprio a niente Ma perché l'hai fatto Arrivo io il baron Tu fai Il nebbetore Io faccio l'elemento di disturbo Elemento di masturbo Cosa cazzo Fa solo passare di qui Grupo 7 Fatemi pushare un attimo Attenti Mid Lascia cercare di prendere il divisore Oh Andre basta con sto lavoro Serve il suo nome Secondo di altro Ecco è morto Ma porca di quella Andre il blu Il blu No No Serve di Dio Anche se il mio amico lo lascia Ha bisogno Questo è il mio bello Ma non se ne apro Siamo molto Grazie Voi raccontarmi tutta la tua vita Non mi interessa Fate però non l'ho sentito Dicevate una cosa Pezza di merda Vai Klaus Vai Bravissimo Vai Vabbè La mia Klaus Che stile La mia Ragazzi Ma nessuno ha visto la mia doppia Lascia accendiamo il cammino Panino Panino Sembra pensare al gibo Camino Ah ho capito Accendiamo il panino La top C'è solo Shen in vita Dai Mi devo comprare il locket No Trandolo 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 Vai 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 No Niente Sano leona Vai su Vai su Su Cina Ok buono Eh lo so Perfetto No infatti ho visto che è troppo lontana Sordi Dove vai Ma c'è il Baron C'è il Baron C'è il Baron No Ma ci fa questo qua Ma c'è il Baron Che vale Ma pensate che io vado da una parte e non riuscite ad attirare l'attenzione minimamente voi In quattro Eh Sabrin è abbastanza bella per tirare l'attenzione Oh No no sei tu il Baron Però come perdiamo tutti e due adesso? C'è il spettacolo Io direi che l'ho preso Andiamo 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 No vabbè Vabbè Sì qua da Pietro Prego Mi alzina Grazie Prego Come fai io? Già l'ho sbroccato qui da Ma gli fai danni tu Sì 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 Direi che ora sì Ho il Last Wasper Ti ho lasciato un po' più lungo No E' un po' più lungo E' un po' più lungo E' un po' più lungo Sucede Sì 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 Esplode due volte? Yeee Sì due volte Basta Come esplodere Ragazzi guardate quanti cazzi i danni che ho fatto Non ti rendi fatto Ho sentito solo ragazzi guardate quanti cazzi Il nostro sacco focuslining è villa Già St Jegi Già Già Grazie a tutti.